trattala come tale non abusarne ciao benvenuto benvenuta questa è la lucerna di cronos e questa è la rubrica espresso più tarocchi come sai il venerdì diventa espresso più oracoli o sibille oggi useremo il mazzo del sizlon l'anormond ovviamente però prima sigla venerdì 3 febbraio andiamo a vedere quali saranno le energie di questo weekend stamani il nostro espresso è arricchito da frutta questi piccoli mandarini che adoro saranno la mia colazione spettacolari sono una bomba di vitamine stamani me ne faccio un paio prima di bermi l'espresso andiamo a vedere però per questo weekend 3 4 5 febbraio 2023 quali sono le energie quali saranno le energie per il weekend del 3 4 5 febbraio 2023 l'orso beh da prima non è affatto male il cane e la bara sono particolari come carte perché due sono estremamente positive ed una invece è simbolo di cambiamento quindi sono due carte che vanno a parlare di un weekend che potrebbe anche iniziare nel migliore dei modi ma in realtà queste tre carte associate così in particolare l'associazione orso bara e cane bara vanno a parlare di quello che potrebbe essere magari un certo momento di profonda stanchezza o demotivazione in questo caso le carte ci dicono potrebbe essere un fin settimana nel quale forse anche pur in compagnia delle altre persone magari un certo senso di insoddisfazione potrebbe alleggiare dentro di te o magari anche un senso di frustrazione o magari semplicemente la voglia di non socializzare di stare un po per soli con se stessi per curare magari i propri interessi per curare quella che è un po la propria interiorità tuttavia le carte volgono in positivo laddove l'orso e il cane si associano in una lettura diventano carte che parlano di tenacia coraggio generosità anche di amicizie che possono influire positivamente sulla nostra vita o anche fiducia negli amici vecchi o nuovi che comunque si prodigano per darci un momento appunto di serenità anche la fiducia in se stessi e in generale il ritrovare quello che è il proprio coraggio è comunque peculiare dell'associazione orso e cane quindi direi che la settimana si conclude in una maniera molto buona io potrei parlare in questo caso anche di un tipo di energia che forse non è tanto da weekend per quanto riguarda il consultante ma che in realtà viene un po costretta tirata per i capelli presa forzata in un certo senso ad avere un dialogo come se magari appunto questo weekend si preferisse restare un po soli con se stessi in questo caso però le tre carte messe così nonostante la presenza della barra non mi sembrano estremamente negative diciamo che potrebbero andare a significare che magari in questo fine settimana per qualcuno ci saranno contatti magari poco desiderati ma questo non vuol dire che ci saranno persone con cui si andrà a discutere o si entrerà in conflitto magari semplicemente persone che pensando di fare il bene cercheranno un po forse di farsi affari nostri un po troppo mentre per altri potrebbe esserci proprio una forzatura magari ad uscire una forzatura a vedere gente o magari una forzatura a dover fare incombenze assieme a qualcun altro o per qualcun altro che magari in quel momento pesa per altri infine potrebbe esserci anche magari la presenza di un qualcuno che vuole approfondire la conoscenza ma in realtà del quale o della quale non se ne vuol sapere granché insomma una settimana nella quale c'è bisogno di socializzare un fine settimana nel quale c'è bisogno di socializzare però allo stesso tempo c'è anche un po il tirarsi indietro e dire sì ok socializzare ma stai nel tuo un po come se pur nella fiumana di persone molto belle che potremmo incontrare o che magari potremmo con i con le quali potremmo essere in contatto anche magari via telefono via social messaggistica c'è comunque sempre una certo non dico non dico una certa freddezza ma di concerto anche limite ecco da non voler travalicare forse potrebbe essere un weekend nel quale tutto sommato si preferirebbe riposarsi si preferirebbe riprendersi e quindi magari questo va poi a influire su quello che è anche un po il modo di rapportarsi agli altri e infine per qualcuno ci potrebbe veramente essere anche questo tipo di energia abbastanza estremizzata che porta poi a quelli che possono essere conflitti per ingerenze di altre persone nelle proprie questioni personali di vita di lavoro di abitudini di amore insomma di quello che può magari toccarti nel profondo quindi è un fine settimana nel quale siamo invitati a mantenere un certo livello di diplomazia con gli altri anche se non ci va di socializzare di uscire di sentire gente di vedere gente magari cerchiamo di declinare un po gli inviti i messaggi di altre persone con eleganza in modo da non originare conflitti mentre per altri bisogna stare attenti perché qui c'è proprio magari un conflitto originato da una persona che anche credendo di fare del bene per noi si fa un po gli affari nostri non sarà per tutti lo ripeto sempre sono energie che possono essere anche presi a livello simbolico quindi magari quella persona mi scrive io sbuffo magari dico guarda ora proprio non ne avevo bisogno magari stavo chattando con un'altra persona che con cui c'ho e quindi poi magari si accorge che io son freddo quindi per alcuni può essere proprio così a livello di pure sensazioni per altri c'è proprio l'interazione sociale che non si richiederebbe in realtà la settimana nella quale forse si tende un po ad essere più meditativi ecco questo questo fine settimana andiamo a vedere il libro personology che cosa dice per i nati il 3 di febbraio il giorno del realismo rigoroso lo definisce il libro molte delle persone nate il 3 febbraio sono attente scrupolose curano i dettagli nell'ambito professionale attribuiscono un grande valore alla tecnica possiedono una particolare abitudine per quello che fanno un'inconfondibile disinvoltura nell'adoperare i materiali di cui dispongono nonché l'abilità di prendere cose anche molto lontane l'una dall'altra metterle insieme e farle funzionare secondo un ordine ben preciso hanno un buon tempismo riescono a cogliere il momento più opportuno per fare i propri passi sul lavoro come in amore quest'ultimo ambito viene non di rado considerato un appassionante hobby degno di altrettanta attenzione che una cardiera a tempo pieno i nati in questo giorno vedono con molto realismo i limiti delle loro capacità possono avere il genio dell'originalità ma senza dubbio maneggiano con grande maestria ogni aspetto delle loro attività la puntualità però non è il loro forte perciò meglio non aspettarsi mai che essi arrivino in orario almeno secondo i tempi stabiliti dagli altri sono dotati di pazienza e perseveranza e questi individui sono anche molto concreti e prosaici riguarda le proprie abilità a livello emotivo invece mostrano diversi problemi ben radicati e profondi talvolta incontrano non poche difficoltà nell'instaurare rapporti normali e possono fuggire impauriti al solo pensiero di doversi legare o di dover approfondire nell'intimità o rapporto in particolare gli uomini nati in questo giorno soffrono della cosiddetta paura di impegnarsi ma sia gli uomini che le donne sono non di rado attratti dalle situazioni decisamente disinvolte sovente in ambito carnale verso tutte quelle occupazioni mondane che le persone normali amano essi mostrano la tendenza a prendere e lasciare con estrema facilità se una situazione sembra non funzionare sono capaci di abbandonare tutto e passare ad un'altra situazione per quanto riguarda l'aspetto finanziario paiono molto fortunati però sono velocissimi anche a spendere il denaro peggio ancora non si rendono nemmeno conto di come abbiano fatto a spenderlo quasi fosse scivolato loro dalle dita la maggioranza ha infatti le difficoltà a raggiungere la stabilità e la sicurezza nella vita e tuttavia anche uno stile di vita elastico e flessibile può aiutare molto in questo senso sono dotati di grandi capacità di adattamento e si sentono meno minacciati dagli altri dai cambiamenti e dall'incertezza sembrerebbe allora che se vivessero meno in superficie più in profondità queste persone avrebbero risolto tutti i problemi ma in realtà ben raramente le cose stanno così a furia di lavorare con fatti dettagli tecniche cercando di comprendere quello che funziona quello che va bene quello che non va bene a furia di specare il tempo a provare il metodo di procedere per tentativi può diventare un vero e proprio stile di vita per compensare una personalità come questa decisamente amante dell'estetica ma contemporaneamente molto esigente dal punto di vista fisico l'ideale resta comunque trovare un compagno comprensivo sicuro di sé dotato di grande stabilità quei nati 3 febbraio che non sono destinati ad incontrare sulla propria strada persone così alle quali appoggiarsi continuano di norma a vivere la loro vita giocosa e spensierata preferendo la propria libertà personale all'alto prezzo che forse dovrebbero pagare per mantenere una relazione fissa i nati il terzo giorno del mese sono governati dal numero 3 e dal pianeta giove coloro che sono governati dal numero 3 tendono a raggiungere le posizioni più prestigiose nel proprio ambito amano sentirsi liberi e gestiscono molto bene i loro affari e i nati 3 febbraio non fanno certo eccezione tuttavia dal momento che urano governa il segno dell'acquario i nati il 3 febbraio possono risultare alquanto caotici e ondivagli fortunatamente la combinazione urano giove conferisce spesso ricchezza e fortuna materiale la carta associata ai nativi di oggi è l'imperatrice i pregi sono tecnico attento ai dettagli perfezionista i difetti inaffidabile emotivamente complicato indulgente con se stesso il consiglio del libro è tenete duro cercate di mantenere alte le sorti dei vostri affari e non rinunciate tanto facilmente qualche regola non fa male a nessuno non spaventatevi dei sentimenti tutti dobbiamo affrontare le nostre responsabilità prima o poi il pensiero del giorno è non affezionarsi è una buona cosa ma anche a questo ci si può affezionare singolare il pensiero del libro personologi a volte sono molto belli a volte insomma dai potevano far di meglio traiamo l'ultima massima della settimana sempre dal libro proverbi sentenze massime di saggezza bellissimo questo testo uscito mi sembra lo scorso anno per la buon piani le sentenze sono quelle di clitarco la numero 99 dice con la virtù otterrai tutto con la cattiveria non è non otterrai nemmeno te stesso è una grande verità la persona cattiva la persona che prova rancore poi alla fine è insoddisfatta di tutto perché insoddisfatta di se stesso di se stessa bene con questo si conclude la nostra settimana di espresso e tarocchio ti ringrazio per averlo visto e ti do appuntamento a lunedì mentre mi vado a mangiare i miei mandarini a bere il mio espresso per l'espresso e tarocchi con le energie della settimana ciao